FLETUS POSTO COITUM È un mare su di noi e adesso che è passato lo colgo di profilo. Dolce è il sonno se il compagno tace. Commento. Questo è il modo in cui l'individuo di media evoluzione concepisce l'atto sessuale, come fine a se stesso, come una polluzione ghiandolare che lascia poco di sé nei piani più sottili. Ed allora è giusto, come dicevano i romani, parlare di FLETUS POS COITUM, della tristezza del dopo coito. Per l'individuo di maggiore evoluzione l'atto sessuale è un completamento fisico dell'amore, come donazione di sé all'altro, che eleva l'individuo dalla mera vita fisica alla vita di coscienza. Grazie. 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 Grazie.